Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, solito video al volo, oggi però voglio parlarvi di qualcosa di realmente importante. Ecco, questa cosa sono gli investimenti e le emozioni, un collegamento veramente indelebile e imprescindibile che molte volte, anzi la maggior parte alle volte, fa fare degli errori agli investitori e ai trader veramente madornali, anche da principianti. Sicuramente avere un obiettivo finale lungo periodo aiuta a non cambiare la propria strategia durante la volatilità di mercato, ma tramite le emozioni purtroppo qualcuno devia questa strategia e rischia di sbandare al di fuori degli obiettivi e quindi di perdere del capitale solo perché segue le proprie emozioni. Ovviamente prima di iniziare ad investire, come sempre devi e dobbiamo avere un obiettivo ben predefinito. Se è un obiettivo a lungo o a medio termine dobbiamo darci una data di scadenza o un obiettivo di prezzo da raggiungere. Se questo obiettivo di prezzo, questa data di scadenza non è ancora arrivata, durante il percorso qualsiasi cosa succeda dobbiamo rimanere sul pezzo e non seguire ciò che ci dice la mente e che ci dice il nostro corpo grazie alle emozioni che vengono trasmesse dal momento. E questo è un concetto veramente fondamentale ma soprattutto molto interessante, mi piace moltissimo perché tramite gli investimenti e questi momenti difficili, se sei un investitore anche con poco capitale ma importante, capisci quanto è difficile mantenere il sangue freddo. E questa è una cosa incredibile perché l'investire il nostro capitale guadagnato con fatica e sudore durante ore e ore di lavoro ci mette praticamente a nudo, ci mostra realmente come siamo. Questo perché avendo qualcosa di importante sul piatto e vedendo questa cosa di importante che lentamente stanno nella direzione sbagliata o anche velocemente con magari degli scossoni di mercati pazzeschi, ecco che le emozioni non possono non farsi sentire. Di errori e soprattutto di investimenti sbagliati ce ne sono molti e il concetto che gli investimenti e quindi le emozioni collegate ad essi ci mostrano realmente come siamo è qualcosa di veramente bello perché questo fa sì che il nostro vero essere esca fuori ed è proprio come nella vita, come nello sport, come nel lavoro. Nello sport ad esempio quando le cose non vanno come devono andare, io ho giocato per molti anni a pallacanestro, sto giocando anche in questo momento, quando la prestazione non va come deve andare ecco che in molti si abbattono, i pensieri iniziano ad essere negativi e in campo fai sicuramente errori che solitamente non fai perché ti fai prendere da questo sentimento negativo che si installa all'interno della tua testa vedendo che le cose non vanno come devono andare. Ecco in questo caso hai sicuramente due cose da fare. La prima è quella di lasciarti trasportare dalle emozioni e quindi continuare questo circolo negativo, la seconda invece è di reagire, dimenticare completamente questo errore o tenerlo a mente ma non facendoti influenzare, continuare verso l'obiettivo della tua prestazione ovvero la vittoria e quindi l'azione successiva non giocare come se prima tu avessi fatto un errore ma continuare a giocare come se non fosse successo nulla, quindi con la stessa fiducia in te stesso che avevi prima. La stessa cosa è nel lavoro, quando nel lavoro le cose non vanno come devono andare, ad esempio se uno fa il venditore, il commerciante, ecco si lascia scappare molti clienti per errori di dialogo o qualsiasi altra cosa, ecco che questo non deve fermarli, non deve darli insicurezza e quindi far cambiare la sua strategia per il prossimo cliente. Di conseguenza, ultimo esempio, anche quello dello studio. Chi studia sicuramente ha avuto e ha degli esami difficili da affrontare, non tutti gli esami possono andare bene, questo lo sappiamo. Di conseguenza, anche in questo caso, il saper affrontare un esame negativo e prepararsi ancora meglio per l'esame prossimo senza avere questa insicurezza dentro e questo sentimento che ci influenza nel arrivare non preparati come sappiamo, ecco, è qualcosa che è legato all'emotività e tutto questo si ricollega agli investimenti. Perché chi investe durante un percorso di 10-20 anni si beccherà per forza degli scossoni durante il mercato? Quante crisi sono passate negli ultimi 20 anni? Se una persona era all'interno del mercato americano negli ultimi 20 anni si è beccata la crisi del 2008 delle banche Supreme, si è beccato ad esempio il scossone del Covid, insomma, si è beccato molti ribassi. Se in quei momenti si fosse fatto guidare dalle emozioni, ecco allora che avrebbe tolto tutto il suo capitale e avrebbe perso veramente una salita, tra virgolette, ancora infinita anche se in questo momento sta andando verso il basso. Questo è solo un esempio per farvi capire quanto le emozioni siano collegate in tutto ciò che facciamo nella vita e negli investimenti esce realmente la nostra essenza, chi siamo e come reagiamo nei momenti negativi. Questo è totalmente un pensiero personale, spero vi sia piaciuto e spero che anche voi condividiate il mio pensiero. Se non è così, non è un problema, scrivetelo ovviamente nei commenti. Dialogare di questo argomento è sempre qualcosa che mi piace moltissimo. Per cui la persona migliore durante un investimento a lungo termine è quella che non sa nemmeno che esiste un investimento, ovvero la persona migliore è quella che se ha un obiettivo di lungo termine a 20 anni chiude gli occhi e aspetta che il suo investimento proceda per i 20 anni senza continuare ad aprire il suo profilo bancario e guardare il suo investimento. O ad esempio nelle criptovalute la stessa cosa con bitcoin. Anche se, come detto già in moltissimi video, io la penso in maniera differente sulle criptovalute. Perché durante il percorso le criptovalute hanno essenzialmente delle bolle. A lungo termine? No. A breve, brevissimo termine e quindi di conseguenza in quel caso bisogna sì non farsi prendere dalle emozioni nel brevissimo termine, soprattutto non seguire i consigli degli youtuber, dato che se arrivate nell'ultima bull market un giorno bisognava togliere tutti i nostri soldi, un giorno dopo bisognava investirli tutti, il giorno dopo bisognava ritornare a ritogliere tutti i nostri soldi, insomma era veramente un delirio starci dietro. Per cui di conseguenza anche lì strategia anche se a brevissimo termine e quella è un po' differente. La situazione infatti delle criptovalute è molto più volatile e di conseguenza ancora di più difficile da gestire emotivamente. Ora se avete qualsiasi cosa da dirmi mi raccomando scrivetelo nei commenti, se vi è piaciuto il video mettete un bel like, iscrivetevi se non siete iscritti e attivate la campanella, canale Angry Crypto qui sotto e oltre a questo vi chiedo anche di seguire la live che faremo il 21 ottobre, io e Viner dei ragazzi di Angry Crypto riguardante il fisco sulle criptovalute, non ve ne pentirete. Grazie per la visione e al prossimo video, un ciao da Michele a tutti quanti, ciao!